La lettera agli ebrei Non sappiamo neanche chi fossero i destinatari di questa lettera, né dove vivessero. L'autore li conosce molto bene e presume che abbiano una conoscenza approfondita della scrittura dell'Antico Testamento, in particolare delle storie dei primi cinque libri della Bibbia, la Torah, di come la famiglia di Abramo sia divenuta la nazione di Israele, di come Mosè abbia liberato gli ebrei dalla schiavitù in Egitto e li abbia condotti al Monte Sinai. Lì ricevettero la Torah e fecero un patto con Dio, impegnandosi a costruire il tabernacolo, dove i sacerdoti offrivano sacrifici, e anche di come abbiano vagato nel deserto durante il viaggio verso la terra promessa. L'autore si aspetta che i lettori conoscano tutti i dettagli di queste storie, dunque la cosa più probabile è che i destinatari della lettera siano cristiani ebrei. Ed ecco da dove viene il nome della lettera. Alcuni indizi all'interno del capitolo 10 suggeriscono che quella comunità fosse perseguitata e costretta al carcere in quanto seguace di Gesù. Alcuni membri della comunità si stavano allontanando da Gesù e stavano abbandonando completamente la fede. E questo spiega lo scopo e la struttura della lettera. Comincia con una breve introduzione, seguita da quattro sezioni in cui l'autore paragona e contrappone Gesù a persone ed eventi chiave della storia di Israele. Gesù viene prima paragonato agli angeli e alla Torah, poi a Mosè e alla terra promessa. In terzo luogo viene paragonato ai sacerdoti e a Melchisedec, e infine ai sacrifici e al patto. Lo scopo dell'autore in queste contrapposizioni è duplice. Il primo obiettivo è quello di elevare Gesù. Egli è superiore a qualunque altra persona o cosa, mostrando che Gesù è degno di tutta la nostra fede e devozione. Il secondo obiettivo è di esortare i lettori a rimanere fedeli a Gesù, nonostante la persecuzione. Per questo include in ogni sezione un forte avvertimento a non abbandonare Gesù. Approfondiamo e vediamo come l'autore sviluppa questi punti. L'elevazione di Gesù comincia con la frase d'apertura dell'introduzione. Anticamente Dio parlò in molte maniere ai nostri antenati, ma in questi ultimi giorni ci ha parlato per mezzo di suo figlio. Dunque, l'autore sta dicendo che Gesù è superiori a tutte le rivelazioni precedenti di Dio a Israele. Poi fa la sorprendente dichiarazione che Gesù è lo splendore della gloria di Dio e l'immagine esatta della sua stessa natura. Queste metafore creano una fortissima identificazione tra Gesù e Dio. Dunque Gesù è per Dio quello che i raggi di luce sono per il sole. O ancora, Gesù è quello che l'impronta della cera è per un anello con il sigillo. Per questo autore non c'è altro Dio al di fuori di Gesù. Gesù è Dio divenuto umano come figlio. L'elevazione di Gesù viene analizzata nel resto della lettera. Nella prima sezione, l'autore paragona Gesù agli angeli, il che ci potrebbe sembrare strano. Perché agli angeli? Nella tradizione ebraica si insegnava, in base al libro del Deuterenomio, al capitolo 33, versetto 2, che la Torah e le parole di Dio erano state trasmisse a Mosè sul monte Sinai dagli angeli. E così, dicendo che Gesù è superiore agli angeli, l'autore implica che Gesù e il suo messaggio della buona notizia sono superiori a qualsiasi messaggero precedente della parola di Dio. Da questo scaturisce anche il primo avvertimento. Se Israele era stata esortata a prestare attenzione alla Torah consegnata dagli angeli, quanto più dovremmo prestare attenzione al messaggio annunciato dal figlio di Dio. E non solo quello. Considerata la condizione di superiorità di Gesù rispetto agli angeli, quanto è sorprendente che egli abbia rinunciato a quella posizione privilegiata per diventare uomo, soffrire e morire. In Gesù vediamo la gloria suprema di Dio e la sua grande umiltà, nel modo in cui Gesù si è unito compassionevolmente al tragico destino dell'umanità. Nei capitoli 3 e 4, l'autore continua dicendo che Gesù è superiore a Mosè, il quale condusse il popolo di Israele attraverso il deserto e costruì il tabernacolo. Gesù è anche il capo del popolo di Dio, ma in lui non vediamo il costruttore di una semplice tenda, bensì di tutta la creazione. In seguito, l'autore torna a raccontare la storia di come gli israeliti si ribellarono a Mosè nel deserto e di come persero l'opportunità di godere del riposo che Dio aveva offerto loro nella terra promessa. Ed ecco il secondo avvertimento. Se Gesù è superiore a Mosè, quanto saranno più gravi le conseguenze della nostra ribellione? Anche noi ci troviamo metaforicamente in un deserto e dobbiamo avere fede in Dio per ricevere il riposo futuro nella sua nuova creazione. Dunque, assicuriamoci di non ribellarci come fece Israele nel deserto, con il rischio di perdere la misericordiosa offerta di Dio di entrare nella sua nuova creazione. Dal capitolo 5 al capitolo 7, l'autore paragona Gesù ai sacerdoti di Israele, discendenti di Aronne. Il loro ruolo era quello di rappresentare Israele davanti a Dio e di offrire sacrifici volti a espiare o coprire i peccati del popolo. Ma, sottolinea, anche i sacerdoti erano persone moralmente imperfette. Pertanto, dovevano costantemente offrire sacrifici per i loro stessi peccati, oltre che per quelli di tutti gli altri. C'era bisogno di qualcos'altro. E l'autore continua dicendo che quel qualcos'altro è Gesù. Egli è il sacerdote supremo, ma non proviene dalla discendenza di Aronne. Piuttosto Gesù era un sacerdote dell'ordine di Melchisedec, quel misterioso re sacerdote dell'antica Gerusalemme, che compare nelle narrazioni sulla vita di Abramo. Nel Salmo 110 leggiamo anche che il re messianico della discendenza di Davide sarà un sacerdote dell'ordine di Melchisedec. Dunque, secondo l'autore, il punto è che Gesù è il re sacerdote supremo, è moralmente perfetto ed è eternamente disponibile ad aiutare il suo popolo, è superiori a qualsiasi altro mediatore tra Dio e l'uomo. Ed ecco il suo avvertimento in questa sezione. Rispingere Gesù significa rispingere la nostra unica e migliore occasione di riconciliarci completamente con Dio. Non fatelo. Questo avvertimento ci porta all'ultimo paragone, dal capitolo 8 al 10. L'autore ci mostra come la morte di Gesù sulla croce sia stato il sacrificio supremo, superiori a tutti i sacrifici animali offerti nel Tempio. Quei sacrifici dovevano essere offerti continuamente, ogni giorno, ma anche ogni anno durante il giorno dell'espiazione. Gesù ha offerto la sua vita una volta per sempre e questo fu sufficiente per riscattare i peccati del mondo intero. E così l'autore avverte i lettori a non allontanarsi da Gesù. È come voltare alle spalle all'offerta misericordiosa del perdono di Dio. Perché fare una cosa del genere? Il sacrificio di Gesù è permanente, ci dice, ed è il fondamento del nuovo patto del quale parlarono i profeti. In questo patto tutti i peccati sono perdonati. Quindi, ora che l'autore ha elevato Gesù al di sopra di tutti questi contrasti, questa sezione finale è tutta dedicata a lanciare una sfida a seguire Gesù. Pensate al quadro generale. In Gesù abbiamo trovato la parola stessa di Dio. In Gesù abbiamo speranza di far parte della nuova creazione. Gesù è il nostro sacerdote eterno. È il sacrificio perfetto. E così adesso dovremo seguire tutti i grandi modelli di fede che si trovano nella storia della scrittura. E dovremmo rimanere fedeli a Gesù, credendo che a dispetto di qualsiasi difficoltà e persecuzioni, Dio non abbandonerà il suo popolo. Questa è la linea di pensiero principale nella lettera, che alla fine l'autore chiama una breve parola d'esortazione. Ecco alcuni consigli extra per leggere questa lettera. Quando l'autore cita un passo della scrittura dell'Antico Testamento, ovvero in quasi ogni versetto, fermatevi, cercate e leggete la citazione nel suo contesto originale. A volte rimarrete perplessi, ma il più delle volte vedrete molte connessioni interessanti, che altrimenti non avreste mai notato. Ne vale la pena. Dovreste anche sapere che quei passi d'avvertimento vi metteranno un po' a disagio, e quello è in un certo senso il loro scopo. Ma non sono lì per spaventarvi. Sono lì per mostrarvi che respingere Gesù è da sciocchi perché Egli è meraviglioso. Questi avvertimenti sono funzionali allo scopo principale della lettera, che è quello di mostrare che Gesù è la rivelazione suprema dell'amore e della misericordia di Dio. Ed ecco di cosa tratta la lettera agli ebrei.